No, 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 no! Guglielmo va dietro a lavorare in una maniera incredibile. Il problema è che il laureare è fidanzato. Però insiste. Ho un po' paura per il mio ragazzo. Questa è un ragazzo di mio ragazzo. Mi ha buttato proprio Guglielmo. Quindi mi sa che rimango un po' in fattoria, un po' più a lungo, non torno più. Il proprio obiettivo è Guglielmo. Non è passato tanto tempo, però ci tengo già tanto d'auro. Che proprio non riesce a farsene una ragione. Fra, mi manda in pesto perché è fidanzato. Ed è pronto ad elaborare una precisa strategia. No, mi vuoi tempo. No, Gloria, è una cosa che ti devi dire. Come fa con il tipo. Quando senti la mancanza di lui, capito? La fanno riflettere tanto, no? E nel momento che sta riflettendo, no? Non ne pens bung più. No, me says ho. Mi sa già. No, io non possiamo ci toccare una volta faccio. No, io non mi fai la tua grandicità assi d' wp Endopen. Questa錢 di StudentsFaitchi